Filippo Nibbi con i suoi manifesti arriva con questa busta con scritto ma prima un caffè. Ma scusa, l'hai mai incontrato una bella donna che ha voglia di te? Che ti dice subito? Non vuoi caffè? È classico, no? Allora Luca, ti aspetta qui, noi siamo a prendere il caffè. No, no, ci vuole una bella donna. Ah, è una bella donna, figliolo. Io ti posso leggere la mimosa. La mimosa. Che poi, avendo la portata a te, è la tumosa. La tumosa. Cominciamo a giocare. Il mimo sa che la mimosa è in fiori. Ramo, anagramma, mora. Pensa un po', ramo, mora. Bibliotecario, beato coi libri. E vediamo allora i giochi che sono qua. Reggimi un po' la cosa. Guarda, c'è un'attrezzatura. Un'attrezzatura. Io tu capiglia le ferie. Allora. Allora. Ecco il libro. Fatelo vedere. Milena Milani, la ragazza di nome Giulio. La ragazza di nome Giulio, lo dice tutto. Trattato sui trans. E' una grande scrittrice, innamorata di se stessa e di altre donne, per cui l'ho celebrata con un bellissimo manifesto che vi faccio vedere. Che abbiamo qui. Ecco. Perché qui è come la catena di Sant'Antonio. Ecco. O vai. Quindi. La testa delle donne. La testa delle donne. Si legge, sì. La testa delle donne. La ragazza di nome Giulio, riprendendo il libro. Così egli udiva la voce. La sentiva con gli occhi, la vedeva con l'orecchio. E' eccezionale. Una frase di Brocchi, che non è Brocchi, con delle stanze. Si tratta di Herman Brocchi. E' bravissimo. E con questa cosa eccezionale, questo omaggio alle donne. Alle donne. Di Filippo Nibbi. La testa delle donne. La testa delle donne. Ramo Mora. Qui abbiamo due more, sono venute fuori. Sapito? La rispiega se qualcuno non ci può essere. C'è anche quelli duri. Buon 8 marzo. Grazie. Ciao.